In questo video spiegherò il mio sistema di montaggio dei cartani centrali, in modo che questi non rimangano incastrati all'interno del pignone durante lo smontaggio. Quindi, la prima cosa da fare è dividere lo stampo della cellula. Poi si procede con l'inserimento dei cucinetti del pignone. Personalmente parto da quello interno che, anche con la semplice pressione di un dito, si incassa perfettamente. Quello esterno, invece, è molto più duro ad inserirsi. Pertanto, utilizzerò il pignone, lo inserirò all'interno della cellula e facendomi aiutare dall'altro cuscinetto per inserirlo in guida. Successivamente, fremerò con forza, aiutandomi con, ad esempio, un manico di una pinza o qualunque altra cosa. Successivamente, metterò il pignone in posizione e andrò a preparare il cardano. Prenderemo, prenderò dei frenafiletti, verde in questo caso, e con una punta, lo inserirò all'interno della filettatura, cercando di coprirla nella totalità. Poi, preparerò il grano e cercherò di mettere un altro velo di frenafiletti rimuovendone l'eccesso con il dito. Poi, prenderò un pezzo di carta assorbente e ne rotorerò un lembo in modo che possa inserirsi all'interno del cardano. Successivamente, ripeto un attimo l'operazione nel caso si sia perso un po' di frenafiletti, andrò ad avvitare il grano sul cardano in modo che possa avere più o meno la stessa posizione di quando verrà montato sulla cellula. A questo punto, cerco di forzare la carta in modo che vada ad assorbirmi tutto il frenafiletti in eccesso. Una volta fatta questa operazione, svito nuovamente il grano, prendo un altro lembo asciutto di carta e lo reinserisco all'interno del foro del cardano. Come vedete è pulito. A questo punto si può procedere con il montaggio. L'unica cosa da stare attenti è a lasciare il giusto gioco che è circa mezzo decimo. Io lo faccio a mano. Troppo poco. Prima di serrare con forza. Una volta trovato il giusto gioco si può serrare fuori. In questo modo, quando andrete a smontare il cardano per una qualunque manutenzione, basterà semplicemente allentare il grano e il cardano verrà via senza nessun tipo di problema di bloccaggio col pignone. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.